Free Point Game del 22esimo round di Eurolega, ormai non ce la faccio più, quanto invidio Lorenzo, Filippo e Giacomo che seguono la Virtus.Broni e si possono divertire, perché l'Olimpia Milano perde ancora una volta con lo stesso copione, questa volta a Valencia 84-72 e di fatto, anche se la matematica non li condanna e la speranza dell'ultima a morire e i miracoli dello sport esistono, ne so qualcosa io in un altro sport, dice di fatto addio alla sua stagione europea. Primo punto, la partita, il solito copione, ma lo sapevo, ah guarda io sono sicuro che se dico il solito copione, chi mi sta guardando, non ha visto un minuto, sa già di cosa sto dicendo, 26 minuti e 30 secondi arrotondando, di ottima pallacanestro, perché il match è da speculare, Valencia ha un'ottima difesa, una squadra molto fisica e un attacco con ottima individualità, ma non continuo, e Milano è più o meno la stessa cosa, e su questo fattore Milano si è imposta per 26 minuti e 30 secondi, il più 10 era meritato e ben conquistato, è ben costruito, è bastato un possesso, uno, l'antisportivo di Flaccadori sul recupero di Pollicino Harper, da lì il protocollare, sfera sul piano inclinato, basta. Poi Nepier ha tenuto in vita la squadra, il miglior Nepier della stagione stasera, ma Nepier è arrivato senza benzina, come è arrivato Hall senza benzina, Melli impalpabile, Feitman un disastro, Tonut impalpabile, Ricci impalpabile, Flaccadori impalpabile, cioè se leggo tutto il roster è impalpabile, a parte Nepier e Hall che ci hanno dato quello che potevano, ma sono spompati, a Shields non puoi dirgli nulla, e a McGruder pure, perché era il debutto. Se la sconfitta con la Stella Rossa era stato il primo chiodo sulla bara di Milano, questa sconfitta è l'altro chiodo e la terra sopra la bara, sopra la fossa. Il secondo punto è l'ultimo, perché tre come fai a trarli fuori, è finita. Io vi cito dei numeri che vi danno l'idea, Milano è tredicesima con 9-13, Valencia che è l'ultima squadra che andrebbe al play-in oggi è 11-11, Milano deve vincere 9 delle prossime 13 partite, sperando che davanti facciano casino, ma non lo stanno facendo casino, il Monaco ha vinto dominando il peggior real dell'anno, il Vasconi ha vinto a Belgrado con la Stella Rossa, l'Olimpiacossa ha vinto. Ok, il Fenerbahce ha perso, ma il Fenerbahce è già più avanti. Inoltre tutto Milano deve vincere nel 9 delle prossime 13, le prossime tre sono in casa col Barcellona che comunque si è un po' ritrovato. A Oaxaca un inferno totale contro Pandinaikos e a Istanbul contro l'Efes che ha pari record di Milano, però ha battuto un colpo importante battendo il Barcellona l'ultima. Io non so, magari ci sono i fedelissimi che ci credono, come Milano la risolleva e la domanda adesso da farsi è, con la stagione europea che, come l'anno scorso, è andata a gennaio e quest'anno non c'è neanche il brio delle 9 vittorie consecutive, perché questa squadra non le fanno le 9 vittorie consecutive, da ragionare sul come gestire gli infortunati. Cioè io onestamente mi roticcio, non lo faccio più di entrare in Eurolega, ma neanche Schiltz, magari per fargli dare il ritmo partita. Oggi la stagione europea di Milano è finita. Dubito che ci sia qualcuno che possa darmi torto. Ciao.